Il capolista ha vinto le elezioni, è un raccomandato. Capitano, guardi qui. Passeggeri votati alla morte. In linea aerea sotto inchiesta. C'è una svendita da pennis! Ho bisogno di alcuni uomini sulla torre di controllo. Tu Neubauer e tu Macias. Mister Johnny, bel cervellone! In campana, striker, andiamo sulla torre. Dindon. Andiamo sulla torre, Dindon. Sulla torre! Sulla torre! Aspettatemi, Dindon, vengo anch'io!